Questa settimana abbiamo giocato a 6 titoli diversi E ci siamo accorti di non avervi parlato di un gioco che in realtà abbiamo giocato Non ve l'abbiamo parlato perché pensavamo di averlo fatto, invece no Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo i Giullari, come ogni venerdì siamo qui per raccontarvi tutto ciò che abbiamo giocato Nella settimana per noi appena trascorsa più o meno perché vedrete che abbiamo fatto qualche problema Come sempre vi ricordiamo che siamo anche su Patreon se vi piace quello che facciamo Ci volete aiutare a continuare a crescere trovate il link qua sotto in descrizione Quindi partiamo subito con i titoli di cui già vi abbiamo parlato Che sono storie di famigli, Lorenzo il Magnifico e Dragomino Se cercate storie di famigli tra i vari diari vedrete che sì ve ne abbiamo parlato dicendovi Dicendovi l'abbiamo iniziato ma ve ne vogliamo parlare quando l'avremo concluso tutto Questo per dirvi che lo stiamo giocando, ci sta sempre piacendo un casino Stiamo evolvendo nelle nostre avventure, stiamo scoprendo cose man mano che giochiamo Ma siamo ancora ben lontani dalla fine della terza era in realtà Poter ve ne parlare in modo completo e con cognizione di causa Esatto perché vogliamo comunque riuscire a valutarlo nel suo complesso Ad ora ci sta piacendo veramente molto Ad ora ci sta piacendo un sacco quindi sappiate che lo stiamo giocando ma ve ne parleremo più in là Non sappiamo quando ma si scavallerà l'anno nuovo probabilmente ma pian piano andiamo avanti Quindi partiamo subito col parlarvi di Luna Titolo che noi in realtà avete già pure visto il gameplay un paio di settimane fa Perché lo giochiamo, l'abbiamo E ci siamo accorti che in realtà in nessun diario ne avevamo mai parlato Si vede che quando l'abbiamo giocato noi davamo per scontato che magari all'inizio del canale Nei primi vlog ve ne avessimo parlato In realtà così non è e questa cosa ci è stata segnalata proprio da voi che ve ne siete accorti E allora recuperiamo e parliamovi di Luna Parte che io penso di avervene parlato perché penso come una clip di Gianni Toni che canta Luna Di averla già usata in qualche... Però se hai cercato l'hai trovato Luna, Luna che cos'è? È un gioco di fortissima pianificazione È un gioco molto atipico, molto poco incasellabile a livello anche di meccaniche che il gioco sfrutta Ciò che faremo sarà cercare di pianificare la posizione dei nostri omini sulle varie isole Tra un round e l'altro per riuscire a fare prima degli altri ciò che è importante nel corso del gioco Ovvero mandare i nostri adepti Ma mandarli presto vuol dire fare più punti ma vuol dire anche non averli per fare tutte le altre azioni Mandarli troppo tardi vuol dire fare troppi pochi punti All'interno del tempio centrale dove c'è una bella meccanica per la quale chi arriva più avanti Ed è quindi più forte avrà la possibilità di scalzare comunque quelli degli altri Per evitare che il primo giocatore che manda omini lì macini i punti per tutto quanto la partita E fondamentalmente vinca Molto particolare e molto difficile da capire alle prime partite E infatti qui subentro io diciamo l'una in generale non è tra i miei giochi preferiti di Feld Cosa? Diciamo un gioco che va imparato Che bisogna è uno di quei giochi che più lo giochi più diventi bravo più lo capisci Più affini la tua tecnica e più poi lo padroneggi Però ci vogliono più partite Alla prima partita non mi stupisco se gente dice non mi ha detto niente Non mi ispira Sì È così Può sembrare Perché può sembrare così Può sembrare tanto arzigogolato Quando in realtà secondo me non lo è minimamente E dopo un po' di partite Anzi quando ci sei entrato nell'ottica In realtà capisci che ogni cosa è fondamentale Ogni isola, ogni potere che ti dà un'isola con i suoi tasselli è fondamentale Ed è fondamentale attivarli nel momento giusto Ma che non sarà mai lo stesso in ogni partita Perché dipenderà tanto anche da come si muoveranno le tre figure Della sacerdotessa, del mastro costruttore dei templi e dell'apostata Tra le varie isole Da come sono disposte le isole Da come sono disposte le isole Come gireranno questi omini E soprattutto quanta interazione ci sarà tra i giocatori Perché non sembra percepibile Ma in realtà vi accorgerete che c'è un'interazione folle Tremenda, cattivissima Tra i giocatori Durante tutta la partita Infatti questa cosa della pianificazione Nel guardare dopo Tu devi già sempre ragionare Io adesso faccio questa cosa Perché tra 3-4 turni Mi servirà aver fatto questa cosa adesso Perché mi ha permesso di avere quel talomino In quel tal posto Che mi servirà però tra Veramente 10-15 cose Guardare cosa fa l'altro Barra gli altri Perché tu magari ti fai tutta questa cosa Però vedi che l'altro magari riesce prima Perché ha le risorse che gli servono Ha l'omino giusto Il posto giusto Ha la disponibilità di adepti Come si chiamano Sì sì Adepti E quindi allora O cambio il piano Perché dici tanto Considerando che Io ci metterei 3 giri 3 turni a farlo Lui al prossimo me lo fa Quindi cambiare direzione E quindi in realtà Il gioco non è che è difficile Perché tanto Ha zigogolato Perché ci sono tante regole Perché ci sono tanti cavigli Perché ci sono tanti No anzi No È proprio una questione di Della pianificazione a lungo termine Cosa che io fatico a fare Un po' come i pagli astrati Gli altri ti vanno Intanto a rompere i marroni Perché questa notte Mi sento particolarmente stronzo Non è sicuramente uno dei più immediati Dei più semplici di Feld Neanche uno dei più famosi Non è neanche uno dei più famosi e conosciuti Però a me piace un sacco Ma perché mi piace proprio Questa idea di pianificare A lunghissimo termine E in questo Tra i suoi giochi Anche Aquasphere Ha anche questo aspetto Infatti è un altro gioco Che mi piace Poi lì si sviluppa In modo diverso Con cose totalmente diverse Ma questa idea Luna è precedente Addirittura Aquasphere Luna è uscito 4-5 anni Prima di Aquasphere E l'aveva localizzato MS qualche anno fa Quindi forse È anche un po' più Facilmente trovabile Magari anche nell'usato Piuttosto se nei negozi Non si trova più Comunque c'è anche il gameplay Di Aquasphere Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Nei diari Fateci sapere Se di Aquasphere Sì no Ne abbiamo parlato Perché lì avevano giocato Al mare con Dado E ne avevamo parlato Giusto In quell'occasione Secondo me Quindi di Aquasphere Credo proprio Che ne avessimo parlato Ma nel caso Cercatevi anche il diario Di Aquasphere Per trovare i diari Qua sotto c'è il drive Oppure su Telegram Col botto Cerca giù Lari botto Trovate tutto comodamente Abbiamo poi Giocato Porta Nigra Ovvero Rispolverato Nel vero senso Della parola Sì Perché non lo giocavamo Da un po' di tempo Sono trascorsi 84 anni Io non so perché Avevo il ricordo Che in due giocatori Non funzionasse A meraviglia Perché c'è una parte Di gioco Legata a delle maggioranze In quanto noi Nel gioco Andremo a costruire Delle Delle robe Delle torrette Che nel gioco Te li chiama mattoni Semplicemente Parazzi Sì esatto Delle torrette di robe In quattro zone Del tabellone E chi ne avrà costruite Di più In ciascuna delle zone Farà punti In modi diversi Ma sempre dati Su chi ne ha costruite Di più no E quindi Avevo Non so perché Questo ricordo Che in due giocatori Non funzionasse A meraviglia Non ricordo Nulla Nel gioco Noi giocheremo Delle carte Queste carte Ci daranno Delle possibilità Di azioni Noi giocheremo Sempre tutte le carte Del nostro mazzetto Che sono uguali Per tutti quanti I giocatori Quindi tutti avremo Sempre accesso Alla stessa quantità E tipologia Di azioni Ma l'ordine La distribuzione In cui le faremo Nel corso della partita Sarà diverso Anche perché Magari una carta Che vi da Quattro possibili azioni Io magari ne posso Attivare al massimo Tre Quindi anche questa scelta Comunque determinerà Partite diverse Da parte dei giocatori Noi ci muoveremo Quindi per questi quartieri Andando ad acquistare Questi pezzi Queste torrette Che a seconda Del quartiere Da cui le stiamo acquistando Corrispondono A un diverso colore Più il colore È alto Più è costoso Maggiori saranno Anche i punti Che mi darà Quando io Queste torrette Le andrò a costruire Nei quattro angoli Della mappa Quando costruisco Farò dei punti Per i colori Che sto utilizzando In quel momento Inoltre posso anche Prendere delle carte Che mi danno la possibilità Di fare dei punti Più carte Di ogni settore Avrò raccolto Oppure potendole scambiare Utilizzando i gettoni In favore Per fare carte Che mi danno Ancora più punti Il gioco di per sé È molto semplice Molto lineare Abbastanza astratto Nel senso che Non vi sentirete I consoli romani Che stanno costruendo Per l'appunto La porta nigra In questa Città della Germania Che non mi ricordo Tanto perché Boh Francoforte Non lo so È una città tedesca No no L'ambientazione Non la senti per niente Io non sento l'Africa È un gioco In cui senti La necessità Di dover fare tutto Ma sai Che poi tutto Non riesci a farlo E non puoi farlo Gioco che Verosimilmente Non è facilmente Trovabile E reperibile Però diciamo Non un capolavoro Quindi chiaramente Ci sta Che a distanza Di così tanti anni Più nessuno Probabilmente Si ricordi di porta nigra Neanche noi Che ce l'avevamo In collezione Momenti ci ricordavamo Più di porta nigra Però è stato comunque Piacevole da giocare Un gioco che fa Comunque il suo Senza cose eccezionali Ecco però Senza pretese Senza pretese Però comunque Lo fa bene È un gioco Con molta meccanica In realtà Si non chiamo noi A giocarlo Comunque Non è noi quei giochi Cioè forse È invecchiato un po' Cioè non è invecchiato male Però sta un po' Di gioco datato Si però diciamo È più un gioco Che è più concentrato Sul funzionare bene Da un punto di vista Meccanico Che darti delle vere E proprie emozioni Diciamo così Mentre lo giochi Ma ci sta anche Proprio forse Nel periodo In cui è uscito il gioco Perché la maggior parte Dei giochiano Così Assolutamente Cioè si è proprio evoluto Il mondo Assolutamente Un gioco Molto figlio Dei suoi tempi Ma che comunque Abbiamo giocato Con piacere Abbiamo un filosofo Fra noi Abbiamo finalmente Giocato al primo caso Di Hidden Games Primo caso La No Il 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 mistero Il caso di Villa Sezia Il caso di Villa Sezia Non me lo ricordo Caso 1 1 Villa Sezia Ce ne sono tre Ce ne sono tre Le abbiamo tutte e tre Le avevamo acquistate Caso 1 stampato Ma siamo partiti Da caso 1 E Villa Sezia Mistero Omicì Comunque Qualcosa Qualcosa Sarà tutto più chiaro Era da un po' Che volevo giocare All'Inden Games Era da un po' Che finalmente Che rompevo albi Di prendermi Quest'Inden Games E non riuscivo a convincerlo Non so per quale motivo Poi tempo fa Se ne hai convinto Ma tempo fa Quindi li avevamo lì E non avevamo ancora giocato Io per i giochi Abbiamo avuto con calma Perché c'è bisogno di calma Di non avere fretta Di non dire Oddio tra un'ora e mezza Però dobbiamo andare a prendere bambini E se ci mettiamo due ore No Quindi abbiamo avuto In modo Il tempo di posarcelo con calma Io voglio Quando giochiamo in investigativo Che sia Sherlock Holmes Che sia l'investigativo che vuoi Sapere di avere Il tempo infinito Esatto Anche perché c'è bisogno Effettivamente E perché Per poi dire Ah cavoli Io devo chiudere Oppure vabbè Diamo una risposta Giusto perché è tardi Non mi va E preferisco non giocarci piuttosto Sì ma non ti dare Non lo giochiamo mai Non lo giochiamo mai Voglio giocarlo Quando sono tranquillo Cosa bisogna fare Fondamentalmente Aprire una busta E leggere tutto quello Che c'è all'interno della busta Quindi abbiamo Un caso da risolvere Siamo degli investigatori privati Quindi ci viene recapitata Questa busta In quanto la polizia locale Non è stata in grado Di Non ha fatto bene il suo lavoro Non è stata in grado O comunque ha Abbandonato in fretta Il caso Dexter Che cos'è Una barriera architettonica Al posto del cervello Sappiamo già dall'inizio Cosa dobbiamo trovare No Quindi in questo caso Dobbiamo Chi Trovare Dovevamo trovare Chi ci ha spedito La busta Chi era L'assassino Dell'omicidio In questione E altre due cose Che non possiamo dire Sono scritte Sulla busta Sono scritte Sulla busta esterna Quindi non è spoiler Non è spoiler Però insomma Ci sono un po' Di Chi ha spedito Una certa tal lettera E insomma Delle cosine da scoprire Da qui in avanti Tu non hai più Nulla Nel senso Tu hai tutti quanti Gli elementi Devi iniziare a guardarli E devi cercare di collegarli Molto carino Che all'interno della busta Troverete già proprio Un poster Con le varie foto Delle varie persone Che riguardano Dove hai il posto Volendo dove prenderti appunti O come abbiamo fatto noi Abbiamo appiccicato sopra dei posti Ti abbiamo scritto lì Per poi poterlo imprestare Anche ad amici E farlo giocare anche a loro E devi praticamente Cercare tutte le informazioni Possibili E capire come Collegare queste informazioni Alle varie persone Al momento di questo omicidio Cercare quindi Gli alibi I moventi Delle varie persone Per cercare di capire Chi è stato La cosa che mi è piaciuta molto È che non c'è in realtà Un unico caso Ma ci saranno più cose Da dipanare Ci saranno più casi Che sembrano anche Scollegati tra di loro Poi palesemente Non sarà così Perché Non sarebbero All'interno della busta Magari hai la foto Ma non hai nessun altro elemento Quindi devi anche capire Chi Chi è quello lì Perché Numeri di telefono Chat Foto Biglietti da visita Conti correnti Molte foto Fatte dagli autovelox Insomma avrete Tantissimi elementi E anche qui Come già Anche in altri titoli Ma già anche Sono detective Sulla scena del crimine Piuttosto che anche The Heist Per quanto The Heist Di cui vi abbiamo parlato È tutta un altro tipo di cosa È tutta un altro tipo di cosa È tutta un altro tipo di cosa Non sono paragonabili Se non nel fatto Che apri la scatola E c'hai tanti elementi Ma i due giochi Secondo me Non sono paragonabili Qua devo proprio Seguire un'investigazione Quindi ho proprio Delle domande A cui rispondere E devo cercare Di arrivare a capire Quella risposta lì Per farlo Avrò anche la possibilità Magari di Non so Trovo su Biglietto da visita Un sito web Magari è buona cosa Andarlo a vedere E cercare di capire E cercare di capire Delle cose Avrò la possibilità Anche qua Di vedere Magari dei database Per sentire Degli audio Di interrogatori O magari di testimonianze E cercare di collegare Tutto quanto Ho capito tutto Se vi ricordate Se vi ricordate In probabilmente Il periodo di lockdown Vi avevamo parlato Di un gioco simile Che anche quello Arrivava in una busta Nero agli investigatori Che dovevano riaprire Questo cold case Che era prospect detective Sì che l'ha ricordato molto Esatto Ora questo Probabilmente Sono andato a vedere Il hidden games Che è tedesco Di origine E del 2019 Quindi forse è precedente Hidden games Ma noi l'abbiamo In realtà giocato dopo La struttura In quel caso È sì Molto 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 simile È praticamente Quasi la stessa cosa Di quel prospect detective Vi avevamo segnalato Alcune cose Che non ci avevano Fatto impazzire Che questo Hidden games Abbiamo trovato In realtà Molto più professionale No ok Se prospect detective Ci sembrava Quasi più una buona idea Ma fatta in modo Un po' amatoriale Questa è una buona idea Fatta in modo Veramente molto molto Curato Molto attento Tutti i dettagli Sono precisissimi Non abbiamo trovato Nulla di poco chiaro O con dei refusi Banalmente Tutto ti fa molto andare In quella cosa lì E a un certo punto Ho detto Ma sta villassezia Esisterà da qualche parte Del mondo Sono andato a cercarla Su google maps Non esiste Così spoiler Non esiste Però ero convinto Che effettivamente Fosse un posto reale Le persone lì Non fossero persone reali Ambientazione E la sensi È proprio calato Mi è proprio piaciuto Perché è fatto Proprio molto molto bene Fila tutto Non arrivi alla fine Dicendo no vabbè Come ci arrivavo qua Esatto Per quanto siamo andati Che sono volate Che sono volate Sono veramente volate Perché l'abbiamo trovato Proprio bello Se vi piacciono gli investigativi È una bella esperienza Anche qua non c'è nulla Da distruggere Scrivere Fare Appiccicare Grattare Piuttosto che Quindi in realtà Una volta finito Rimettete tutto nella busta E potete darlo Sì a parte sul poster Che ti dà lo spazio Per scriverti tu Ma appunto Noi appunto Ci abbiamo messo Sopra le postite Abbiamo scritto Foglio matita È uguale È la stessa Bello Bello Funziona bene Come dicevo Giocato poco dopo The Heist The Heist Non sono paragonabili Non lo voglio ribadire Perché sì The Heist Probabilmente mi ha più sconvolto In quest'anno Rispetto a questi Hidden Games Però ribadisco Non sono paragonabili Perché The Heist Non è un gioco investigativo Ma nel panorama Di giochi investigativi Che ci piacciono un sacco Questi Hidden Games Ci è piaciuto un sacco Perché comunque È fatto È fatto veramente bene Curiosa di provare Anche il caso 2 Il caso 3 Il caso 3 Sperando che siano Sempre la stessa altezza E finisce così La nostra settimana ludica Ma come sempre Prima di salutarvi Vi ricordo che lunedì È uscito il nostro gameplay Di Happy City Quindi se non lo avete Ancora visto Andate a recuperarlo Invece mercoledì È uscito il nostro gameplay Di Cascadia Vincitore dello Spiel des Jahres Finalista del gioco dell'anno Che ancora non avevamo Recuperato e portato sul canale Quindi ci cospaggiamo Il capo di cenere Finalmente è arrivato Il nostro gameplay E noi come sempre Vi ricordiamo di mettere Mi piace Commentare Se vi va a seguirci Su tutti quanti I nostri social Non perdervi nulla Di tutto ciò che produciamo E vi ringraziamo tantissimo Per essere stati In nostra compagnia Vi ricordiamo Che qui a Casa Giullari Si gioca per giocare I giullari vi salutano E che gioca sia con voi Ciao Ciao Grazie a tutti.